La vita è dolore? Allora, nella sua forma non evoluta in cui noi nasciamo e non lavoriamo su noi stessi, assolutamente sì, la vita è dolore perché il dolore non è altro che un'energia che ha la stessa consistenza della serenità o della gioia, ma che è un'energia intrappolata, è come fosse costipata in delle cisti, delle cisti inconsce che abbiamo dentro di noi, per cui chi vi dice che la vita così, d'amblè, senza aver lavorato su se stesso o su se stessa, senza aver compiuto un percorso reale, non a chiacchiera, a fatti, di crescita personale, di lavoro spirituale interiore, Ecco, le persone che non hanno fatto tutto ciò e che come un mantra scrivono, scrivono o dicono in rete o nella realtà la vita è meravigliosa, la vita è un dono, che bello, che gioia, non c'è nulla di più bello della vita, sono o degli ebeti, Quindi insomma, anche essere ebete non è che sia una cosa sublime, oppure sono persone che hanno una maschera, nel senso che dicono questo proprio per mascherare l'esatto opposto, Un po' come la persona che non ha un soldo, maschera dicendo che vuole far vedere che è ricco, ricca, o quello che non scopa mai, che non ha mai visto un pelo di figa, o non ne vede uno da dieci anni, è sempre lì che parla di donne e di quanto sia bello e di quanto sia figo lui O metteteci tutti gli esempi che volete, la lingua batte non sempre, perché sempre nelle scienze umane e sociali non esiste, ci sono sempre le dovute eccezioni, ma nel 99% dei casi la lingua batte dove il dente vuole, ok? Fatta questa promessa però, dire che, limitarsi a dire che la vita è dolore è un'affermazione limitata, perché? Perché noi nasciamo nel dolore e se non lavoriamo su noi stessi, su noi stesse, continueremo per tutta la vita a provare questo dolore, ovviamente il dolore non è una cosa che tu, A meno che non ti succedano dei fatti eclatanti, ti muore tua madre, ti muore tua sorella, ti muore il tuo ragazzo, cosa? Allora lì ti metti a piangere davanti a tutti e tutti vedono che stai male, ma scongiurando questi eventi tragici, oppure ti crolla la casa, ti prende fuoco la casa, Metteteci tutti gli esempi che volete, scongiurati questi eventi tragici, normalmente una persona che incontrate tutti i giorni, anche con il sorriso, alla quale stringete la mano, andate a berci una birra, vi fate una canna, scopate, fate il cazzo che volete, ridete insieme, quella persona dentro ha del dolore, ce l'ha nella sua parte subconscia, perché quel dolore lì non emergerà fino a quando non verrà stimolato, ma c'è, e quel dolore lì è come un freno a mano che ti fa andare avanti, un freno a mano tirato, che ti fa vivere al 10, al 20% rispetto al 100% di come tu potresti vivere, perché, proprio come un motore che ha un'energia dentro, e la vita non è altro che un'energia che abbiamo dentro di noi, ecco, questo dolore praticamente imprigiona questa energia, e oltre a farci stare male dentro di noi, ci fa vivere con più fatica, ecco, ok, chi è depresso, chi si fa fatica anche solo ad alzarsi dal letto, non ha una motivazione spesso razionale, diretta, per cui è depresso, ma perché lo è? Perché supponiamo, facendo sempre delle percentuali fittizie, che il 100% della sua energia vitale sia mangiata per l'80, 90, 95% da delle cisti di dolore, che ha dentro di sé, ok? Però, con il lavoro interiore, con il lavoro alchemico dell'alchimia, cioè della trasformazione di se stessi, che è un lavoro molto duro, molto impegnativo, e che bisogna fare seriamente, e non a chiacchiere, come vi propinano molti spiritualisti, noi riusciamo a liberare queste cisti di dolore, ovviamente non è che si liberano tutte in 15 giorni, io ho più di 20 anni che lo faccio su me stesso, e ancora oggi, se mi rubano la macchina, fatemi anche toccare i coglioni, che spero di no, mi rubano la macchina, minchia, è capace che per 4 giorni, veramente, sto di merda, magari 4 no, ma almeno 2-3 giorni, poi ho fatto l'esempio di rubare la macchina, perché non voglio fare esempi ancora più tragici, che se mi morisse un familiare, o altre cose, avete capito? Ma, lavorando su se stessi, su se stesse, e liberando parte dell'energia vitale che c'è dentro di noi, noi portiamo questa energia vitale sotto il nostro comando, questo cosa vuol dire? Che man mano che quote, proprio come fossero delle azioni bancarie, quote di dolore che ci sono dentro di noi, le liberiamo e le portiamo sotto il nostro controllo, quando si presenterà un evento spiacevole, quelle quote di dolore trasformate in energia vitale e portate sotto il nostro controllo, anziché il controllo dell'esterno, faranno sì che noi soffriamo di meno. Potete metterci anche la tragedia peggiore, che può essere perdere un familiare, non è la morte di quella persona che ti fa realmente stare male, anche la persona a cui vuoi più bene, ma è la ciste, il dolore imprigionato dentro di te, non controllato da te, consciamente, che ti fa stare male. Quindi domani toccatevi tutti, muore tua madre, tua sorella o cosa, tu stai malissimo, anche io starei malissimo, non ho sorelle, però insomma sono esempi generici, ma non è la morte di quella persona che ti fa stare male, è la tua reazione inconscia che ti fa stare male, perché se uno, chi di voi, se gli morisse un familiare, per quanto volesse bene a questa persona, potesse decidere, ok, è morto, è morta, tanto comunque non è che lo riporto in vita, struggendomi di dolore. Posso, invece di essere addolorato, ovviamente con piangerlo, ricordarlo con rispetto, ma posso non soffrire. Chi di voi deciderebbe di soffrire? Sì, ci sono persone, culture, in cui ancora nel sud Italia, ci sono ancora persone che piangono a pagamento ai funerali, o siamo lì vicino, come cose, però nella cultura moderna, chi è che direbbe, cazzo, io preferisco soffrire per un evento spiaceo, metteteci, se non volete, la morte, che ti ha piantato la ragazza, il ragazzo, se a te ti pianta il tuo ragazzo e stai di merda, e il tuo ragazzo tanto non ne vuole sapere di tornare con te, tu, se potessi scegliere, sceglieresti con il tuo ragazzo che ti ha mollato, di stare male o di stare bene? Ovviamente se non sei una pazza, sceglieresti di stare bene, ma non puoi, perché è la tua parte subconscia che comanda, non sei tu, ok? E la tua parte subconscia è la detentrice di queste quote di dolore, che tu, senza il lavoro interiore su te stesso o su te stessa, non hai portato sotto il tuo controllo cosciente. Il lavoro alchemico, l'alchimia, non è altro che portare quote di controllo che ha l'esterno su di noi, portarle al nostro controllo interno. Attenzione, perché poi so sempre che c'è qualcuno che magari nei commenti scrive questa quota fuorviante. Quando tu porti delle quote di dolore controllato dall'esterno, le trasmuti e le liberi in energia vitale e le porti sotto il tuo controllo, tu non diventi assolutamente una persona arida, più arida, tu non diventi assolutamente una persona peggiore. Perché il soffrire non ti rende una persona migliore, c'è anche nella nostra cultura del cazzo in cui viviamo questa fallacia moralistica, assolutamente. Quando tu porti alla tua consapevolezza e sotto il tuo controllo queste quote di dolore e le trasformi in energia vitale sotto il tuo controllo, tu diventi una persona migliore, diventi addirittura una persona più altruistica. Perché? Perché comunque il bene, questo l'ho già detto in altri video, l'amore, l'affetto che provi per altre persone, essendo che comunque hai più il controllo della tua emotività, lo provi in maniera incondizionata, non utilizzando quella persona. Avete capito? Poi ci sarebbero fiumi di parole da dire, ma penso che in sintesi l'abbiate capito. Quindi, diffidate, come ho detto in inizio video, di chi dei bimbi minchia, bimbi e minchia, e new age, che vi dicono che la vita è meravigliosa, è tutta fantastica, o cosa. Ma diffidate anche da quei pessimisti che vi dicono che la vita è dolore, nichilisti, chiamateli come cazzo volete, ci sono diverse scuole filosofiche, di pensiero, che vi dicono che la vita è dolore, punto, e che non può questo dolore essere trasmutato con molto impegno, molta fatica, non con un corso del cazzo che pagate mille, duemila euro in cima a una montagna, non con una fighetta su Instagram che vi propina con le zinne di fuori, i due stronzate di meme o di aforismi scopiazzati qua e là, non con il santone o la santona che vi fa vedere la madonna che vola, o i cani che prendono il deltaplano, non con queste stronzate qua, ma facendovi il culo, lavorando voi stessi dentro di voi in maniera seria. Questa è l'alchimia, il lavoro alchemico di trasformazione di se stessi. In questo video ho usato anche dei termini che magari per molti non possono essere, benché io cerchi sempre di essere abbastanza terra-terra e semplicistico nella spiegazione, ho usato anche dei termini che magari quote di dolore, pericisti e via dicendo, ma spero di essermi fatto capire. Se avete apprezzato il video vi chiedo solamente di lasciare un like, mettere un commento se vi va, iscrivervi al canale, condividere questi video, insomma, accendete la campanellina, le solite stronzate che vi dico sempre. Un saluto, un bacio a tutti.